Ciao a tutti e salvo qui X5Stare che parla e oggi siamo qui con un nuovo episodio di... No, nessun nuovo episodio. Oggi siamo qui con un piccolo video spam. Allora, qui come potete vedere c'è il canale Pokémon Horus Ita, canale dell'ononimo gruppo Horus Ita. Io sono admin sia del gruppo che del canale, come potete vedere qui sono uno dei componenti. Su questo canale porteremo tanti video assieme agli altri admin e allo sclodmin supereremo DoubleWise90Kreger che tra qualche giorno forse potete vedere una notte che ho fatto con chi di lui. Su questo canale cosa farò? Semplicemente porterò la Creep Club Challenge. Quindi per chi piace fare la Creep Club Challenge andate a iscrivervi sul canale e lì vi credo fare la mia Creep Club Challenge che inizierò a registrare tra qualche giorno. Adesso purtroppo non posso registrare perché ho degli ospiti. C'è il mio fratello, sua moglie e sua impote, quindi non posso registrare. Quindi faccio questa cosa molto veloce. E niente, ho due video pronti, cioè non proprio devo renderizzarli e basta, quindi andate a iscrivervi al canale. Nella descrizione troverete anche il link del gruppo, quindi noi ci vediamo con personale video. Ciao a tutti.